Dopo aver approfondito in diversi miei video alcune future che l'exchange Binance ti offre oggi ho voluto realizzare questo tutorial per principiandi visto che comunque sono arrivati diversi commenti nei video che ho realizzato in un'apposita playlist del mio canale tutto su Binance appunto dicevo ho voluto realizzare questo video per chi è alle prime armi per chi si fosse registrato adesso per chi ancora non avesse un account su Binance vi lascio il link in descrizione vi ricordo che la registrazione su Binance è completamente gratuita però se utilizzate questo link sulle operazioni di trading che andrete ad attuare avrete a vita un 10% di sconto inoltre Binance vi regalerà una mystery box dove sarà presente anche un NFT la procedura di iscrizione è semplice si basa su un protocollo KWC è abbastanza intuitivo voi siete bravi quindi non c'è bisogno che perdiamo tempo a spiegarvi come funziona una volta che voi vi sarete iscritti avrete creato il vostro account e una volta che vi sarete loggati vi troverete davanti questa dashboard che vedete qua dove c'è un menu che trovate qua alla vostra a sinistra e un menu superiore il menu che trovate a sinistra come prima voce è la dashboard dove praticamente vi è un overview quindi una panoramica di quello che è il vostro portafoglio io visto che già ho effettuato dei depositi avrò un saldo naturalmente voi all'inizio avrete un saldo pari a zero quindi per cominciare a fare i vostri primi acquisti sulle criptovalute la prima cosa che dovete fare è effettuare un deposito come si effettua io già ho realizzato un apposito video vi lascio il link in descrizione dove tra l'altro ho fatto anche degli approfondimenti però ad ogni modo riprendiamo il concetto quindi per effettuare il vostro primo deposito dovete andare qui su compra cripto e cliccare sulla voce bank deposit quindi fate clic su bank deposit naturalmente voi potete depositare euro o potete anche depositare altre valute i metodi con cui potete depositare i vostri fondi la vostra valuta fiat sono o bonifico o bancario oppure anche con la vostra carta di credito io vi consiglio di effettuare come tra l'altro vi spiegavo nel mio precedente video un bonifico bancario perché qualsiasi sia la somma che voi andrete a depositare pagherete sempre un euro sia che depositate 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro pagherete solo un euro se effettuerete il vostro deposito con una carta di credito allora le commissioni saranno dell'1,8% comunque per te che per la prima volta ti stai affacciando sul mondo delle cripto e ti sei iscritto a Binance ti consiglio di effettuare un bonifico bancario i tuoi soldi arriveranno dopo 2-3 giorni lavorativi noi andremo ad esaminare quelle voci naturalmente principali che serviranno per chi, ripeto, per la prima volta si affaccia al mondo delle cripto come seconda voce abbiamo i mercati nei mercati abbiamo le quotazioni delle principali criptovalute le quotazioni sono in tempo reale qua abbiamo tutte, cripto, quelle che hanno una maggiore capitalizzazione quindi quelle che vengono scampiate di più rispetto alle altre però sono anche classificate in metaverse, gaming, DeFi, eccetera naturalmente abbiamo le monete in evidenza abbiamo anche le nuove quotazioni queste sono le monete, le cripto con il rendimento migliore guadagna abbiamo le principali soluzioni di investimento di Binance abbiamo Binance Earn, Simple Earn e BNB Vault su BNB Vault se volete approfondire ho fatto anche un video clicchiamo su Binance Earn ed ecco cosa abbiamo abbiamo nella prima colonna le principali cripto nella seconda colonna in percentuale abbiamo la stima dell'EPR in questo caso la cripto app ha un rendimento del 92% qualora voi decidiate di metterla in staking cioè di depositarla, di vincolarla per 120 giorni se a me 120 giorni sembra un periodo molto elevato posso anche ridurre il periodo di staking e portarlo a 60% però come vedi da 92% se diminuisci lo staking a 60 giorni l'EPR che è il rendimento poi sull'EPR vi spiego anche vi spiego anche cosa è passa a 52,9% man mano che diminuisco la durata dello staking il mio EPR diminuisce allora io posso vincolare la mia cripto per 120 giorni qualora però volessi svincolarla quindi volessi annullare lo staking lo posso sempre fare e riprendermi la mia sorte capitale però andrei a perdere gli interessi qualora invece decidessi di effettuare uno staking quindi di holdarla in maniera flessibile o sì una riduzione dell'EPR però qualora decidessi io di effettuare uno staking flessibile io quando voglio posso annullare lo staking e guadagnare gli interessi che sono decorsi dal momento in cui ho sottoscritto lo staking fino alla data in cui ho deciso di annullarla naturalmente la questione di investimento Simple Earn è anch'essa suddivisa in quelle che sono le cripto popolari questi sono i miei asset disponibili quindi qualora voi abbiate acquistato del cripto allora Earn ti propone quali sono le soluzioni di investimento io avendo nel mio wallet APE, ADA, BMP, XRP e BUSD naturalmente mi propone queste andiamo in quello che è il mio portafoglio e vi faccio anche vedere quali sono gli investimenti in cripto che ho fatto faccio presente che non sono un promotore finanziario quello che vi sto dicendo non sono assolutamente consigli finanziari ma è solo una condivisione della mia personale esperienza c'è anche questa voce che è consigliata per i principianti noi stiamo realizzando questo video all'inizio del 2023 però devo anche dirvi che Binance è sempre una macchina in continua evoluzione in continuo miglioramento quindi possono esservi da qua anche a poco tempo alcune modifiche sia della grafica che dell'interfaccia consigliato per principianti una lista di cripto con dei rendimenti che comunque non sono male anche 100 BUSD che è una stable coin al 6% non è male 100 euro tenuto in banca dopo un anno vi varranno 95 euro mentre una stable coin al 6% comunque vi darà un certo rendimento benissimo questa è la soluzione Simple Earn andiamo su BNB Vault BNB Vault ho fatto un video apposito ho approfondito tutto quello che riguarda questa soluzione di investimento BNB Vault combina le ricompense sia di Simple Earn ma anche di altre due piattaforme di investimento come Launch Pool e dà anche dei vantaggi per l'acquisto degli NFT in questo momento io in staking ho 3,7 BNB in staking naturalmente ho avviato questo pulsante che è il trasferimento automatico quindi tutti gli interessi vanno a confluire gli interessi che naturalmente sono in BNB gli interessi in questo momento che stiamo registrando il video sono dello 0,35% andranno a confluire in BNB Vault naturalmente posso decidere di emettere in staking altri BNB ok, quindi basta che clicco sul pulsante naturalmente posso decidere anche di annullare lo staking per annullare lo staking naturalmente cliccando appunto sull'apposito pulsante io posso o annullare lo staking dei miei 3,7 BNB posso anche annullarne una parte attualmente posso avere o un riscatto o un riscatto veloce detto anche Fast Redemption quindi qualora io optassi per il riscatto veloce avrei i miei 3,7 BNB però andrei a perdere quelli che sono gli interessi che sono maturati oggi mentre qualora optassi per il riscatto standard io domani avrò sia il mio capitale sia gli interessi di oggi naturalmente prima di effettuare l'annullamento dello staking bisogna flaggare le condizioni di servizio andiamo sempre sulla nostra home ok andando su finance io potrò monitorare tutti i movimenti della mia Binance Card quindi clicco su Binance Card la Binance Card è la card offerta gratuitamente da Binance che ti consente anche di spendere le tue criptovalute in oltre 60 milioni di esercizi in tutto il mondo grazie alla Binance Card più spendi più guadagni in cashback il cashback ha diversi livelli percentuali questi livelli dipendono dai BNB che tu hai in staking per esempio con il livello 1 significa che non hai nessun BNB in staking quindi puoi utilizzare la tua Binance Card e ricevere lo 0,1% sui tuoi acquisti quindi con un minimo di un BNB hai il 2% di cashback e questo è il livello 2 quindi livello 2 un BNB di saldo medio mensile naturalmente il cashback che potrai avere è di 100 euro io ho in questo momento un saldo di 77 qua ci sono tutti gli acquisti quindi vi è la data la Binance Card si può usare anche per gli acquisti online infatti questo che vedi qua è un acquisto che ho fatto su Amazon e ho ricevuto il mio cashback e questa è la priorità di pagamento cos'è la priorità di pagamento? che qualora tu facessi un acquisto per esempio di importo superiore a quelli che sono i tuoi fondi in euro allora Binance comincerà a prelevare dalle tue criptovalute naturalmente la priorità di pagamento si può modificare quindi faccio clic per esempio su modifiche allora per esempio se i miei euro non dovessero bastare io che cosa faccio? come seconda priorità di pagamento metto i BNB completato ok? con la Binance Card puoi anche effettuare dei prelievi in denaro contante presso tutti gli ATM passiamo alla sezione NFT ripeto Binance offre una vasta gamma di soluzioni di investimento qua avete tutta una panoramica di quelle che sono le migliori condizioni le migliori collezioni scusate queste delle ultime 24 ore degli ultimi 7 giorni eccetera ve ne andate a guardare voi sono molto belle andiamo nella sezione wallet qua andremo ad analizzare diciamo quelle che sono le voci più importanti andiamo su quella che è la panoramica del portafoglio qua vi è il saldo stimato dove praticamente vi sono contenuti tutti i vostri asset quello che è il conto principale finanziamento quindi tutto quello che è nella Binance Card e tutte le soluzioni di investimento tutti questi aspetti li vedremo in altri video facendo scorrere il mouse avete anche delle scorciatoie qua per esempio se io poggio il mouse sul conto principale quindi posso depositare posso prelevare posso trasferire la Binance Card posso comprare o vendere le mie criptovalute inviare cripto o valuta fiat dal mio wallet di finanziamento al wallet spot l'NFT che Binance vi darà nella mystery box non lo potete comunque trasferire ve lo dovete tenere voi oppure lo potete anche mettere come vostro avatar se volete ritorniamo su wallet earn dove andrete a trovare tutte le soluzioni di finanziamento che voi avete sottoscritto e tutte le vostre cripto messe in staking quindi cliccando su earn andrete in questa pagina qua per esempio mi compaiono tutti i risparmi flessibili ok quindi i risparmi che come vi dicevo prima io posso riscattare lo stesso giorno senza perdere gli interessi quindi qua ho BNB qua ho BUSD e qua ho XRP quindi quelli bloccati che io ho sottoscritto qua come vedi c'è questo pulsante questa è la sottoscrizione automatica cos'è la sottoscrizione automatica? che alla fine del periodo di staking quindi di 120 giorni Binance sottoscrive per lo stesso periodo le cripto che tu hai messo in staking l'estratto conto questo potrà servirvi per avere una visione sintetica di quelle che sono state le operazioni che avete effettuato con le vostre criptovalute qualora abbiate realizzato del plus balance dovete sapere che sono tassabili adesso io non voglio entrare nel merito della tassazione quindi su tutto quello che avete guadagnato con le vostre cripto per non avere problemi con il fisco parlatene con il vostro commercialista naturalmente di default magari potrete trovare la lingua inglese qualora vogliate cambiare la lingua cliccate su questa icona che vi raffigura il mappamondo e scegliete la lingua scelgo italiano però come vedi ce ne sono diverse bene, penso che per oggi sia tutto in questo video abbiamo parlato delle principali funzionalità di Binance più che altro per chi si è affacciato